Sicuramente l'importanza, il dato che è emerso è quello di infondere una fiducia nel presente e soprattutto nel futuro ai nostri pazienti. In questo periodo molti di loro hanno omesso di fare controlli o di eseguire degli screening e questo lo stiamo notando e questo porta un danno notevole ai nostri pazienti. Ricardare una diagnosi o non capire quando l'evoluzione di una patologia sta andando in senso negativo si riflette poi nelle nostre possibilità terapeutiche. Questo è un dato che è emerso e che bisogna sottolineare per ridare un po' di fiducia nei nostri pazienti.